Buongiorno, io sono Simone Gallo e in questo momento sono a Praga, so per terminare il Double Decay. Vista la mia ottima esperienza, posso dire con sicurezza che se hai interesse nel progetto Erasmus, ti consiglio assolutamente il Double Decay qui a Praga. L'occasione di ottenere due lauree contemporaneamente è ineguagliabile. A questa si unisce una città bellissima, attrezzata, economica e ricca di cose da fare e da vedere. L'università è attenta, pronta a seguirti ed aiutarti, così come il gruppo Erasmus, sempre alto supporto. Lezioni e esami sono assolutamente comprensibili e la lingua è un problema minimo. I laboratori sono attrezzati e ti consentono di lavorare in un ambiente all'avanguardia per il tuo tirocinio. Sommando tutto questo, direi che questa è un'occasione da non perdere.